Ho dato facoltà a tutte le suore di clausura di sette conventi di Napoli che stanno qui a uscire. Ma com'è un fatto? Sorelle dopo? E questi sono i clausuri, figuriamoci quelli che non clausuri. Che cosa succede? E chi lo so mangi nella domanda? Sorelle? Sorelle? Sorelle, tenimi che fa? Sorelle, annaggia che la sembesse. Allora adesso padre santo.